A parlare di crisi del sistema educativo è stato lo psicanalista Massimo Recalcati, intervenuto nella trasmissione radiofonica di Rai Radio 1, Il Mondo Nuovo, lo scorso martedì 13 giugno. Nel suo lungo intervento lo psicanalista ha parlato anche del rapporto docenti, studenti e genitori e del patto educativo rotto. Sentiamo le sue considerazioni. Sì, questo che dici è un punto di grande gravità per lo stato di salute della nostra scuola, che però riflette la condizione comatosa in cui si trova il discorso educativo in generale, perché basterebbe aprire una finestra sulle famiglie e sulle difficoltà quotidiane che i genitori hanno nell'educare i loro figli per ritrovare lo stesso disorientamento. Quello che tu dici a proposito della rottura del patto generazionale nella scuola è un fatto evidente. Cioè, quando Freud diceva nella figura dei maestri, degli insegnanti, dei professori, i figli proiettano le figure primarie genitoriali. Già Freud dicendo questo, diceva che in fondo esisteva una continuità fondamentale tra la figura del genitore e la figura dell'insegnante. E dal punto di vista culturale e sociale esisteva un patto educativo tra genitori e insegnanti. I genitori si schieravano dalla parte degli insegnanti condividendo lo stesso obiettivo che era quello dell'educazione dei figli, cioè della formazione di dare una forma alla vita dei figli. Oggi quello che accade è che da una parte questa alleanza si è fratturata, per cui i genitori sono alleati non più con gli insegnanti ma con i figli. E l'isolamento degli insegnanti comporta il fatto che qualunque loro azione con una finalità educativa rivolta agli allievi viene vissuta dalla famiglia come un abuso di potere, come un'ingerenza, come un esercizio autoritario del potere. Insomma, come ho scritto in altre circostanze, nel nostro tempo i genitori tendono a fare come dire i sindacalisti dei figli per un verso. Per un altro verso, e questo rende la situazione degli insegnanti ancora più paradossale e ancora più difficile da sopportare, gli insegnanti sono anche investiti di un compito educativo dagli stessi genitori. Cioè, nella misura in cui i genitori non riescono ad esercitare questa funzione in famiglia o per incapacità o anche per semplicemente indifferenza senza mancanza di responsabilità, gli insegnanti si trovano a vicariare, a supplire queste falle, diciamo così, nel discorso educativo in famiglia. Quante volte abbiamo sentito questo? Cioè, che la scuola va ad occupare il vuoto lasciato, il vuoto educativo lasciato aperto dalle famiglie. Quindi c'è un doppio comando contraddittorio. Cioè, da una parte l'insegnante viene visto come qualcuno che, come dire, esercita un abuso di potere nei confronti dei figli, dall'altra parte però all'insegnante viene delegata l'educazione dei figli. Grazie.